dai creatori di dai col film che poi ne hanno rifatti altri vabbè un film drammatico amore sono a casa pieno di colpi di scena amore dove sei? amore? 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 devo scomparsa devo trovarla non sai mai cosa può succedere Marco ha visto mia moglie no no vai via scusi ha visto mia moglie no la moglie mia di Marco no non la conosco me la può che mi ha annegato? no la moglie del signor Marco è pregata alla cassa 1 dai creatori di biancaneve e sette nani da giardino dai nani dai andiamo a lavorare dai dai che cosa fate qui dai bellissimi dai andiamo dai ma scatronia vogliamo andare porca puttana c'è troppo cazzo vai oppure un uomo che sussurrava ai vecchi adorare dai come la torta sì 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 pirassoli Ivan Dal monte Marco In Ivar, hai visto mia moglie Ancora con questa storia Marco, tu non sei sposato Ancora con questa storia